test medicina 2022 news simulazioni test medicina borse di studio e agevolazioni per chi si iscrive all'università come si calcola ise universitario immatricolazioni barra verticale calcolo tasse universitarie come calcolare il voto di laurea regione che vai università che trovi questa la dura vita dello studente ai tempi dell'autonomia degli atenei così se in tutta italia al termine della laurea triennale per diventare dottori a tutti gli effetti c'è bisogno di scrivere una tesi di laurea all'università di palermo a partire dalla sessione estiva del prossimo anno di studi 2013 2014 non sarà più così tutti gli aggiornamenti dal mondo dell'università e gt e gt il senato accademica infatti deliberato che al termine della cosiddetta laurea breve la prova finale consisterà o in un test scritto a risposte aperte o in un elaborato lungo al massimo 30 cartelle valutato da un'apposita commissione o infine in entrambe le cose se il consiglio di laurea lo riterrà opportuno sei un laureato ecco cosa in serbo per tetele come italia e gt e gt con questa delibera dice il prorettore vicario vito ferro il senato ha inteso ristabilire la differenza prevista dalle norme vigenti esistente tra la prova finale cui corrisponde un'attribuzione da 3 a 6 crediti formativi e la tesi di laurea magistrale che deve avere il requisito di originalità e che ha un'attribuzione in crediti che può raggiungere anche i 40 crediti formativi l'ateneo si doterà anche di un software antiplagio per la verifica dell'originalità del testo della laurea magistrale leggi anche lavori per laureati i 10 più pagati fin dall'inizio e gt e gt la prospettiva è davvero interessante il punto sta nel capire se anche gli altri atenei italiani si adegueranno o se la decisione di palermo resterà un unicum creando di fatto una certa disparità tra i suoi studenti e quelli frequentanti le stesse facoltà ma in università diverse